Au, stavolta me s'ho allenato pure io, tra giri de campo, giri del pallone e giramenti da testa, s'ho diventato un campione a stampanchina. Almeno voi arrivateci preparati alla partita, belli freschi! Con tutti sti gufi in giro, tocca fa' un bel rito scaramantico, offritegli un crotino e mandategli un bel messaggio bestiale. Andate su dilloconcrotino.it e create il vostro, e se vinciamo offro io parola dei gorilla!